Salve a tutti, bentrovati da Stefano Ghetti. Sta transitando un vortice ciclonico sull'Italia che porterà tempo molto instabile anche nell'ultimo giorno della settimana. Una domenica le insegna del tempo fortemente instabile sulle regioni adriatiche del centro su gran parte del sud. Si sposta infatti verso le regioni meridionali, questo vortice ciclonico che porterà con sé anche aria piuttosto fredda, dunque temperature in decisa diminuzione specialmente sulle regioni adriatiche del centro al sud, mentre al nord e sul comparto tirrenico il quadro meteorologico comincerà a dare importanti segnali di miglioramento e ovviamente anche le temperature invece su queste zone aumenteranno nei valori massimi. Questo perché si sta di nuovo avvicinando una figura di alta pressione che attenzione diverrà molto probabilmente protagonista nel corso della prossima settimana quando oltre al bel tempo le temperature torneranno chiaramente a lievitare e tornerà a fare di nuovo un po' caldino. Insomma, nonostante questo assaggio d'autunno proprio a cavallo dell'equinozio, la stagione autunnale non sembra ancora in grado di imporsi in forma evidente su tutto il nostro paese. Anzi, dicevo, la prossima settimana tornerà ad indietreggiare lasciando spazio ad una nuova sorta di estate settembrina. Non toccheremo punte particolarmente bollenti ma sicuramente avremo temperature di nuovo al di sopra della media del periodo. Non si potrà comunque, sì, dicevo, parlare di grande caldo come è successo nei giorni scorsi ma purtroppo le temperature si manterranno comunque superiori alla media del periodo. Se tutto verrà confermato, questa nuova figura di alta pressione potrebbe accompagnarci un po' per tutto il corso della settimana, ma di questo ovviamente ci aggiorneremo. Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi, a più tardi!